Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buon inizio di settimana a tutti voi telespettatori di Catalan TV. Questi erano i titoli del sommario di oggi. In apertura parliamo della situazione della rete idrico fognare del depuratore che nei giorni scorsi ha innescato anche un botte a risposta tra il sindaco Mario Bruno e Forza Italia. Nei giorni scorsi però c'è stata una lunga conferenza di servizio a Sant'Anna presieduta dal primo cittadino. Sentiamo com'è andata nello specifico. Niente più sarà come prima. È suonato come un mea culpa quello degli enti coinvolti anche in passato e vario titolo nei processi di progettazione, autorizzazione, gestione e verifica dell'impianto di depurazione cittadino. Si sono ritrovati tutti attorno a un tavolo nei giorni scorsi a Sant'Anna per affrontare le emergenze sul fronte ambientale riscontrate quest'estate. Si inizierà con il controllo di gestione degli impianti, passando per il coordinamento delle informazioni traenti, finendo con una totale revisione degli scarichi oggi autorizzati a San Marco. Alla presenza dei responsabili del distretto idrografico della regione Sardegna, ARPAS, Consorzio di Bonifica della Nurra, a Banoa, provincia di Sassari, assessorati ai lavori pubblici e ambiente, si è insediato di fatto il tavolo permanente col principale obiettivo di individuare nell'immediato le alternative percorribili all'attuale scarico sul rio Filibertu, contribuire così a migliorare la qualità delle acque della laguna del Calic e avviare un processo che possa mitigare nel medio periodo il fenomeno della marea gialla sul litorale. Secondo quanto si legge in una nota diffusa dal Comune, c'è una rinnovata consapevolezza di aver compiuto troppe leggerezze nell'individuazione della zona dove insediare l'impianto di San Marco, alla luce anche delle numerose criticità che hanno impedito, dal 2011 a oggi, la possibilità del riutilizzo di parte dei reflui in agricoltura. Andrà in quest'ottica l'impegno dell'ingegner Silvano del distretto idrografico e l'ingegner Moritto del Consorzio Bonifica della NURRA nel proporre alla Regione la rivisitazione e modifica del quadro normativo di gestione e riutilizzo delle acque reflue, rivalutando interamente in virtù soprattutto delle criticità strutturali e non solo che ne hanno impedito fino ad oggi il rispetto e il piano di gestione. Riutilizzo che non potrà avvenire se non in presenza della più totale sicurezza e nel pieno rispetto della normativa che indica chiaramente precise prescrizioni in merito alla miscelazione. Conferenza che sarà aggiornata già questa settimana per individuare il nucleo di coordinamento, valutare le prime scelte ipotizzate, concordare in cronoprogramma di opere da attuare e condividere con l'assessorato regionale all'ambiente e lavori pubblici. Parallelamente proseguono senza sosta tutti gli interventi già programmati sulla rete idrico-fognaria cittadina, fanno sapere da Sant'Anna. Attivazione e svuotamento di quattro vasconi, verifiche a tutto campo sull'effettivo buon funzionamento di sistemi di collettamento di acque bianche, controlli a tappeto per intercettare eventuali scarichi abusivi non censiti e ispezioni sul canalone. E ci spostiamo a parlare di Verde Urbano, il cui appalto è al centro di un intervento del Movimento 5 Stelle di Alghero che in una nota si dicono sconcertati per diversi motivi, tra cui la questione che riguarda gli operai storici che se ne occupavano fino a giugno. Sentiamo perché. Il tanto atteso appalto del Verde Urbano ha evidenziato l'incapacità gestionale e il pressapochismo di questa amministrazione. Così il Movimento 5 Stelle Alghero interviene in merito all'appalto del Verde. L'11 agosto è stato affidato l'appalto per la cura del Verde pubblico a tre ditte, si legge, per un totale equalmente suddiviso di 100.000 euro. Finalmente, proseguono i pentastellati, no, siamo delusi e sconcertati per diversi motivi. Gli operai storici, pluri, patentati e specializzati, precari da oltre un decennio, hanno perso definitivamente la speranza di avere un lavoro terminato con il loro ultimo contratto a giugno. La modalità in cui questo appalto è stato portato avanti è imbarazzante, si legge ancora. Infatti il 23 giuglio è stato pubblicato un avviso pubblico per manifestazioni di interesse per la manutenzione del Verde Urbano ed Extraurbano, a cui hanno risposto 22 ditte. A questo punto ci saremo aspettati un bando pubblico con un capitolato e le relative offerte economiche. Invece, a distanza di 20 giorni, con la determinazione numero 643, vengono individuate tre ditte mediante un affidamento diretto senza gara, giustificando un'urgenza che sinceramente stride. Stride prosegue il Movimento 5 Stelle Alghero perché l'interruzione dei contratti delle vecchie squadre del Verde era noto da mesi e anche i fondi da cui si attinge erano anch'essi preventivabili da tempo. Perciò urgenza in questo caso significa disorganizzazione e mancanze di programmazione. Entrando nel merito delle ditte scelte, balza l'attenzione una ditta in particolare in quanto a un contenzioso importante con il Comune di Alghero. Com'è stata possibile una scelta tanto azzardata? Proseguono. Com'è stato possibile non riuscire a programmare l'ordinaria amministrazione? Quale organizzazione e programmazione futura, prossima, avrà questo settore? Ormai il lavoro relativo a questi appalti è praticamente concluso. Ci auguriamo, concludono i pentastellati, che da qui in avanti si procederà per vere gare pubbliche. Stabilito il calendario di settembre per il Consiglio Comunale che torna a riunirsi dopo la pausa estiva. Domani dalle 17 alle 21.30 la prima di quattro sedute, le successive saranno il 16, 22 e 30, nelle quali verranno affrontati 21 punti all'ordine del giorno. Dopo un'interrogazione presentata da Forza Italia sul riconoscimento della lingua catalana, il secondo punto in agenda è la destinazione dell'ex caserma dei carabinieri di Via Simon, che nelle intenzioni dell'amministrazione dovrebbe diventare la sede del distretto della creatività, argomento che ha già vivacizzato il dibattito politico dei mesi scorsi. Quindi, al terzo punto, l'esame, l'approvazione delle modifiche al regolamento del Consiglio Comunale e a seguire una lunga serie di mozioni presentate dai vari gruppi consigliari. E in città prosegue il dibattito riguardante il piano di rete ospedaliera prospettato dalla Regione. Il timore espresso da più parti è quello di un declassamento. Oggi abbiamo intervistato Stefano Campus del Comitato Nuovo Ospedale. Sentiamo qual è il suo giudizio sul piano. Stefano Campus del Comitato Nuovo Ospedale di Alghero. C'è grande fermento in città, dibattito per quanto riguarda il piano di rete ospedaliera. Molti parlano di declassamento della sanità algherese. Secondo voi così? Sì, noi abbiamo già formulato un documento, ci siamo incontrati e riteniamo che questa proposta della Regione sia fortemente penalizzante non solo per i cittadini algheresi ma per tutti coloro che risiedono e che ravitano nel territorio di Alghero. Parliamo anche di iti, di tiesi ma arriviamo anche a ozzieri. L'abbiamo ritenuta penalizzante perché chiudere reparti importanti come Ottolino, Urologia e Pediatria è chiaro che per il cittadino che è abituato a recarsi nell'ospedale di Alghero per avere queste prestazioni è chiaro che causa problemi enormi perché significa che questi cittadini dovranno recarsi a Sassari con liste di attesa lunghissime perché già da oggi se per un intervento di Urologia ad esempio ci sono 7-8 mesi adesso non lo so ma la richiesta è forte di lista di attesa ma spostare tutto a Sassari significa raddoppiare questi tempi oppure costringere il cittadino se ha denari a rivolgersi agli studi privati quindi è chiaro che questa situazione è penalizzante non solo per gli algheresi ma ripeto per tutti quei cittadini che hanno necessità di prestazioni. Si cercherà di mantenere le attuali discipline però la vostra battaglia è anche quella per avere una nuova struttura qua ad Alghero? Diciamo che noi stiamo lottando per mantenere i servizi attuali non stiamo chiedendo altri servizi cose eccezionali assolutamente ciò che c'è dovrebbe rimanere però diciamo che una battaglia cosiddetta storica per il Comitato Nuovo Ospedale è quella di realizzare una nuova struttura ospedaliera perché le attuali condizioni soprattutto del civile non sono adeguate per erogare prestazioni all'altezza della situazione per cui noi stiamo chiedendo che un finanziamento ipotetico di 30 milioni di euro abbiamo sentito che la Regione ha disponibile per Alghero questa cifra allora realizziamo un ampliamento dove ubicare i blocchi operatori tutte le chirurgie compresa l'ortopedia in modo che vengano migliorate le attuali condizioni organizzative e strutturali questo fa sì che all'ospedale Marino ci andrebbe la lungodegenza potenziata la riabilitazione e servizi di cui necessita il cittadino come la neurologia che va sicuramente potenziata potrebbero andare perché no all'ospedale Marino quindi non chiudere assolutamente il Marino anzi potenziarlo rendere più efficienti le strutture del civile realizzando appunto una nuova struttura un nuovo ampliamento è chiaro che l'obiettivo finale è quello del nuovo ospedale dove ubicare tutti i servizi però insomma su questo c'è la politica che si deve ancora dar da fare il presidente del comitato di Fertilia Luciano Solinas ha scritto al sindaco Mario Brun l'assessore all'ambiente Raimondo Cacciotto affinché vigilino durante i lavori in corso per il rifacimento della rete idrica che corre parallelamente alla pista ciclabile di Fertilia in direzione Porto Conte in particolare viene chiesto che a Banoa conclude i lavori ripristinando la funzionalità della pista frequentatissima da residenti e turisti considerando la lunga sequela di interventi rattoppo che hanno devastato in più parti il manto a tutt'oggi dobbiamo segnalare che a Banoa nevano interventi ha disatteso il regolare ripristino dei luoghi pertanto chiediamo vivamente all'amministrazione comunale che si faccia parte in causa per chiedere e pretendere che i danni arrecati alla pista vengano aggiustati a regola d'arte scrive Solinas che poi parla anche del ponte di Fertilia agibile solo sul lato e per i pedoni avendo appreso che a breve saranno disponibili risorse regionali destinate alla mobilità sostenibile ci chiediamo se fosse opportuno investire parte di queste risorse proprio per ristrutturare il ponte l'investimento infatti sarebbe coerente in quanto il ponte rappresenta anche un tratto di collegamento della pista ciclabile ha concluso il presidente del comitato di Fertilia e ci spostiamo adesso al parco di Portoconte che sarà uno dei luoghi del territorio che ospiterà due importanti eventi all'interno dei festeggiamenti per San Michele la mostra di Nivola e il concerto dei Tazenda ne abbiamo parlato con il presidente del parco Antonio Farris Antonio Farris presidente del parco naturale regionale di Portoconte anche voi anche l'ente parco rientra all'interno dei festeggiamenti per San Michele sì partecipiamo con piacere appunto a questi festeggiamenti di tutti gli eventi diciamo di settembre in particolare il giorno 24 dove abbiamo la mattina abbiamo l'inaugurazione di una bellissima mostra appunto di Nivola e quindi la curatrice del museo Nivola appunto di Orani porta al parco proprio una serie di opere sia sia sculture sia pitture sia disegni appunto di Nivola e la mattina appunto la inaugureremo poi la sera invece ci sarà un penso che spero che sia bellissimo concerto dei Tazenda perché i Tazenda hanno girato diciamo un video interamente nel parco che è per presentare il loro ultimo il loro ultimo cd e quindi per presentare appunto questo questo cd verrà fatto questo concerto al parco presentando anche il video che è un video che rappresenta gli angoli più suggestivi e più belli del nostro parco ci lasciamo ora per la pubblicità ci ritroviamo subito dopo e ritorniamo in studio per la seconda parte del nostro telegiornale parliamo adesso di alcune lamentele sollevate su Facebook da diversi utenti che tramite foto postate sul social network hanno documentato ciò che accade nella zona dopo il fine settimana stiamo parlando di Galboneddu lo spettacolo non è certo dei migliori con mondezza di vario genere che crea un vero e proprio tappeto di rifiuti bottiglie di plastiche e vetro campeggiano su marciapiedi e muretti per non parlare delle cartacce fazzolettini e quant'altro che trasforma una delle strade principali di quell'area dove sono presenti anche numerosi esercizi commerciali in un vero e proprio immondezzaio dalle foto che stiamo mandando in onda potete vedere anche voi ciò che si trovano davanti coloro che poi ripuliscono per restituire il minimo e giusto decoro non è la prima volta comunque che la questione viene sollevata e si è rivelata un successo la prima festa della Pivarada conclusa ieri sera con il concerto dei Metaluna diversi gli appuntamenti delle a due giorni organizzati nel piazzale della chiesa di San Giovanni Bosco nella serata di sabato il concerto del Coral Ghetterramie e l'intrattenimento di Pino Lignuso con sketch di cabaret è un gioco a premi nel quale è stato coinvolto il pubblico presente ieri pomeriggio invece attività per i più piccoli e poi gran chiusura con le premiazioni del contest fotografico e del torneo di calcetto con l'atletico Pivarada che in finale ha battuto l'epi Fiume Santo quindi il concerto dei Metaluna particolarmente apprezzato dal pubblico che ha sancito la chiusura della prima festa di quartiere con lo staff organizzatore che ha rinnovato l'invito per il prossimo anno e apriamo ora la pagina sportiva parlando della prima partita ufficiale di 1945 Alghero e Fertilia che ieri si sono affrontate nella Coppa Italia di promozione l'hanno spuntata i giallorossi 1-0 grazie a un rigore assegnato a metà primo tempo e trasformato da Fabrizio Nuoto la squadra di Sandro Sanna ha sfiorato il secondo gol tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo colpendo anche la traversa ma nel finale di partita è stato il Fertile più pericoloso con diverse occasioni e interventi provvidenziali del portiere giallorosso Marras soddisfazione nel 1945 Alghero per una vittoria che mancava da alcuni anni mentre il Fertilia ora tende qualche rinforzo dal mercato anche alla luce dell'ingresso di Giancarlo Scognamillo nella dirigenza e sentiamo proprio le parole del nuovo presidente gialloblu Scognamillo e di quello e di quello scusate giallorosso Antonino Meloni raccolti a fine partita iniziando proprio da quest'ultimo Antonio Meloni è il nuovo presidente dell'Alghero Presidente gli obiettivi gli obiettivi sono quelli di andare avanti cercare di fare una buona squadra per questa città perché questa città non è che sia una città da lasciare indietro come è stata abbandonata purtroppo bisogna cercare di creare veramente uno sport per questi ragazzi che hanno bisogno di giocare nelle nostre squadre l'obiettivo presidente di questo Alghero ma l'obiettivo è di purtroppo cercare siamo in pochi che abbiamo creato questa società che oramai era chiusa finita diciamo che a me mi è pianto un qualcosa perché purtroppo visto che la squadra di Alghero non si segnava nel campionato ci siamo riuniti in quattro persone e abbiamo iscritto la squadra e poi cerchiamo di andare avanti dice un proverbio sardo che in cammino con Sabarri l'obiettivo quale sarebbe il minimo insomma il minimo obiettivo cosa vi posso dire da parte nostra è di fare un buon campionato questo è l'obiettivo e cercare di portare anche qualche qualche dirigente in questa società che ne ha bisogno perché abbiamo anche bisogno di una mano di qualche diciamo così commerciante che vive in questa città che ci dia veramente un finanziamento non vogliamo non vogliamo delle grandi cose ma vogliamo un contributo anche a livello diciamo così di poco non tanto Giancarlo Scognamillo nuovo presidente del Fertilia come nasce così quest'idea di buttarsi nel pallone così di colpo beh è un'idea diciamo nuova del momento sono stato chiamato dalla dirigenza del Fertilia per cercare di dare sostegno a questa squadra sono andato lì ho visto in campo tutti questi ragazzi e mi sono entusiasmato e allora ho visto che avevano qualche problema anche di carattere finanziario ho deciso di dare un contributo sia finanziario sia fattivo operativo cercando di portare quello che conosco io perché non conosco il calcio e sono un neofita nel mondo dell'impresa nel calcio e cercare di fare una cosa pulita alla luce del sole Abbiamo detto che lei vorrebbe vincere cosa significa vincere? Vincere io sono abituato a vincere nella vita a primeggiare per lo meno nel lavoro che faccio nel calcio gioca molto il fattore umano giocano molto le condizioni e la spinta che per i ragazzi possono avere io cercherò di dare questo che io mi porto con me nel mio lavoro di trasmetterlo ai ragazzi sia per quanto riguarda lo sport ma anche cercherò di dare una mano a loro anche nella vita se è possibile nella vita operativa Ma può rimanere in piedi questo progetto cioè vincere il campionato non è un po' una dichiarazione pesante la sua importante vincere il campionato di nuovo per far che cosa? Io per natura se mi metto a fare una cosa sono amante del bello e tendente a primeggiare questa è purtroppo la mia natura e non posso fare altrimenti ci proverò a portare questa squadra a livelli più alti se non riuscirò abbandonare il campo e passerò la palla a un altro però ci voglio provare Ora spazio ai due allenatori Angelo Bardini per il Fertiglia e Sandro Sanna per il 1945 Alghiero Sandro Sanna allenatore dell'Alghiero ci sono voluti quattro anni e un bel po' di partite perché l'Alghiero ricordiamolo non polisportiva è un'altra cosa vincessi il derby con il Fertiglia Sì merito dei ragazzi una grande soddisfazione con tanto cuore l'abbiamo vinto con tanto cuore siamo solo a 15 giorni di lavoro e praticamente si vedeva sulle ripartenze eravamo brillanti però c'è ancora tanto da lavorare è una squadra completamente nuova fatta di giovani meno giovani e i meno giovani sono tutte delle grandi scommesse che sono venuti qui per rimettersi in gioco E comunque si è vista la mano dell'allenatore dobbiamo essere abbastanza sinceri perché comunque abbiamo visto i ragazzi comunque giocare la palla non si buttava la palla questa volta almeno No cioè sì lavoriamo per non buttare la palla il gioco del calcio è fatto per per tenerla il più possibile quindi se già all'avversario non le dai la possibilità di giocare la palla naturalmente il possesso determina anche il risultato di una partita C'è bisogno di qualche altra cosa in questa squadra bisogna completare il puzzle o va già bene così? No no sicuramente c'è bisogno di un centrocampista un regista perché lì in mezzo al campo siano troppo giovani ci vuole uno di costruzione davanti ci vuole lo stesso un altro che possa dare un pochettino di sicurezza in più a questi ragazzi e penso che dietro comunque aggiustando aggiustando un po' l'assetto tattico riusciremo a trovare delle belle soddisfazioni Mister in tribuna c'era Ferraioli cosa le dice? Ferraioli si sta allenando con noi Ferraioli si sta allenando con noi l'ho sentito anche sabato ha fatto l'amichevole con noi anche giovedì che abbiamo fatto a Santa Maria la Palma contro l'Audax Pietraia l'ho dovuto sostituire per un affaticamento sull'aduttore ci siamo ripeto ci siamo sentiti sabato lui mi ha assolutamente promesso che desidera e vorrebbe e resterà con noi per questo campionato quindi penso che martedì firmerà o possa firmare e mettersi a disposizione della società Angelo Bardini allenatore del Fertiglia una sconfitta insomma forse immeritata però dica lì io dico sono una cosa la prima partita sicuramente giochiamo tutti quanti assieme pochi amichevoli ci sono stati in questo periodo molti infortunati che abbiamo come Langella come qualche d'un altro che è rimasto fuori per infortunio una sconfitta meritata non credo chi ha visto la partita forse il pareggio era più più giusto come risultato l'Alghera ha vinto 1-0 su un calcio di rigore tranquillamente che è stato assegnato ma che non c'era perché in quei casi sicuramente va premiato il difensore non attaccante e per il resto niente da dire sono contento del secondo tempo dei ragazzi per il resto ancora c'è da lavorare lavorare e lavorare Presidente poco fa ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza importanti parla di vincere il Presidente vorrebbe vincere ma si concilia questa sua voglia di vincere con un progetto complessivo che il Fertiglia sta mettendo in piedi ogni Presidente vuole vincere io credo che il campo dica la realtà dei fatti sicuramente con qualche giocatore di esperienza si può fare bene però non parliamo di vittorie di vincere perché cammina in lungo e soprattutto il progetto di Fertiglia è quello di ricostruire qualcosa di importante i ragazzi come ben sapete sono tutti a zero quindi ci vuole un po' di pazienza sicuramente un po' di esperienza qualche giocatore di pazienza ci può dare una mano a livello soprattutto di seguire i ragazzi perché ci vuole però poi alla fine di tutto il campionato tireremo le somme Dal calcio al basket prima vittoria stagionale per la Dinamo Banco di Sardegna subito dopo la presentazione ospitata nelle tenute Selle Mosca venerdì scorso 4 settembre la squadra dei campioni d'Italia e tutto lo staff sono partiti alla volta di Olbia per disputare il terzo trofeo Geovillage organizzato dal Geovillage Sports e Resorte Costa e Venti la compagine bianco-blu ha battuto il brose basket Bamberg con il risultato di 83-78 buona prova collettiva all'interno della quale spiccano David Logan autore di 23 punti seguito da Christian Yang con 17 e Marquez Heinz con 14 la Dinamo conquista per il secondo anno di fila questo trofeo che ormai è diventato il primo appuntamento ufficiale per i giganti di Sardegna nel precampionato così hanno potuto anche misurarsi con avversari del calibro internazionale e tastare le prime condizioni fisiche e tecniche il prossimo appuntamento precampionato per la Dinamo Banco di Sardegna sarà il 9 settembre a Nuoro quando nel trofeo Tirrenia verrà affrontata la EK di Atene ma sentiamo invece l'intervista che Stefano Sora ha realizzato con Brian Sacchetti nella quale ovviamente si parla di questa nuova Dinamo Brian Sacchetti presentazione qui ad Alghero Sardegna Mosca ormai un abitué qua per la Dinamo un nuovo gruppo obiettivi rinnovati cercare di ripetere la stagione scorsa che è quasi irripetibile potremmo dire ma diciamo che ripetersi sarebbe fantastico sarà molto difficile però i presupposti ci sono nel senso che comunque è un gruppo già molto affiatato anche se ci conosciamo da poco sono giocatori comunque esperti che hanno delle qualità importanti e quindi ovviamente daremo il meglio di noi e vedremo come andrà a finire avete fatto già i primi giorni di preparazione ci sarà adesso poi il torneo il primo torneo potremmo dire importante per voi come vedi la squadra? ma la vedo bene ripeto è da poco che comunque giochiamo insieme aspettiamo appunto questo primo torneo con molta ansia perché vogliamo veramente capire a che punto siamo siamo ancora all'inizio magari rispetto a qualche altra squadra che ha già cominciato a fare qualche amichevole però dobbiamo cominciare anche noi quindi sarà un buon punto di riferimento per il proseguo della preparazione è difficile adesso dare un giudizio sulle avversarie che dovrete affrontare nel prossimo campionato però secondo te quale potrebbe essere l'avversario più temibile? Reggio Emilia che avete battuto nella finalissima Milano? ma ci sono ci sono tante squadre che comunque si sono anche rinforzate Milano non ha più fatto la squadra degli altri anni ma ha cercato di compattare un po' di più la situazione americani stranieri in modo da creare un gruppo magari un po' più omogeneo Venezia secondo me si è rinforzata anche Reggio Emilia diciamo che ha fatto un'ottima squadra quindi secondo me sarà un campionato molto appassionante e con tante buone squadre che potranno dire la loro il basket e la Dinamo chiudono l'edizione di oggi del nostro telegiornale vi lascio al meteo vi ringrazio per averci seguito vi ricordo che l'informazione di CatalanTV ritorna domani puntuale alle 13.30 grazie e arrivederci grazie a tutti